Colgo veramente con grande soddisfazione il fatto che il Tribunale ha ascoltato, ha capito e non ha imputato a quel gruppo dirigente francamente delle colpe che non aveva. Tutti assolti tranne uno, questa la sentenza per il filone bancarotta sul crack di Banca Etruria. L'unico imputato che è stato condannato è Alberto Rigotti. Un processo durato due anni con la pandemia che ha sicuramente fatto slittare anche i tempi e che adesso arriva alla prima sentenza per 23 dei 24 imputati. Uno nel frattempo è deceduto. L'accusa era di bancarotta semplice e fraudolenta per coloro che a vario titolo hanno seduto nel CDA della banca negli anni precedenti al fallimento. Un crack da 200 milioni di euro usciti da Banca Etruria e mai rientrati. L'epilogo dello storico istituto di credito aretino con oltre 125 anni di storia è stata poi la liquidazione coatta amministrativa del fatidico 22 novembre del 2015 alla quale seguì l'insolvenza dichiarata nel 2016. La sentenza pronunciata alle 9.45 dal collegio presieduto dal giudice Giovanni Fruganti assolve tutti tranne uno perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il reato. Di fatto una soluzione piena. Tra loro Lorenzo Rosi ultimo presidente, Giovanni Inghirami, Laura Del Tongue e Natalino Guerrini ex vicepresidente. Fino a quando io sono stato vicepresidente la banca aveva un capitale di 800 milioni di euro, aveva una liquidità giornaliera di 7 milioni, era in grado di poter fare tutte le operazioni. Non si capisce come mai dal mattino alla sera il patrimonio è stato disperso. Credo che questa sentenza servirà molto a far luce su quello che è avvenuto dopo. Le colpe forse del default di Banca Etruria vanno ricercate in eventi che sono successi dopo la nostra presenza. Io ricordo sempre che mi sono dimesso dalla vicepresidenza di Banca Etruria eventi sia dentro la banca che hanno condizionato il destino della banca ma soprattutto fuori della banca che ne hanno decretato la fine. Io spero che questo processo e negli atti si capisce molto sia fatta chiarezza soprattutto su quello che è avvenuto fuori da Banca Etruria. Assolto con la formula del fatto non sussiste quindi da tutte le imputazioni così come gli altri imputati in sostanza. Molto contenti del risultato perché è quello che speravano dopo un processo durato anni e nel quale comunque è stato apportato un contributo probatorio enorme per far vedere al Tribunale che comunque la crisi di Banca Etruria non era riconducibile a responsabilità degli amministratori ma una crisi di sistema che è anche comunque delle valutazioni politiche a seguito dell'introduzione del bail-in quindi delle normative europee del fatto che i crediti sono stati svalutati al 17% i crediti deteriorati. Quindi Banca Etruria sostanzialmente ha scontato un momento politico nei confronti anche con il sistema europeo che ha portato comunque alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Unico condannato a sei anni di reclusione Alberto Rigotti ex consigliere. È stato dichiarato assolto quindi sulla maggior parte dei capi e sui capi che sono rimasti in piedi faremo appello e dimostreremo comunque la sua innocenza. Al procedimento sono state ammesse oltre 2000 parti civili tra loro anche Lidia di Marcantonio, vedova di Luigino D'Angelo e risparmiatore di Civitavecchia che si tolse la vita nel 2015 per aver perso 110.000 euro. Oggi in aula solo tre ex risparmiatori. Già avevo dei grossi dubbi, questa è stata la conferma. Come ci si sente? Male. Vedremo se la procura potrà fare qualche cosa, andrà in appello. Tutto qui. La cosa era prevedibile, troppo palese e i rinvii che ci sono stati senza fermare la prescrizione soprattutto. Lei l'ha ripresi i suoi soldi? No.